L'occasione di questa normativa che prevede l'eco bonus del 110% ha fatto scattare nelle banche del territorio, la nostra banca del territorio, la BC del Catanzarese, un interesse particolare e diverso dal sostegno che normalmente le banche fanno verso le imprese, verso il mondo dell'economia, perché è un'occasione per poter svegliare l'economia di questi nostri territori ed eventualmente anche avviarli verso una crescita da una stagnazione ormai che caratterizza perennemente la nostra epoca, direi. Quindi oggi noi siamo qui a promuovere proprio questo incontro che vuole essere anche informativo e formativo, nel senso che l'informazione credo che sia la base per fare scattare quell'interesse che è animato un pochino dalle notizie dei media, è già a un certo livello, però va anche formato, bisogna dare anche dei contenuti in modo tale che non si creano anche false aspettative e quindi procedere in modo concreto e rispettare la finalità che è quella che ho detto all'inizio, che è un grande sostegno per imprese, professionisti e poi perché no anche il fatto ambientale perché questo intervento prevede l'aumento delle classi energetiche e quindi è un discorso di tipo ambientale che va anche considerato. Quindi la nostra banca locale continua ad essere al servizio dei cittadini e delle imprese. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!